Parliamo della sofistica e in particolar modo di protagora. Quando parliamo della sofistica parliamo di un movimento di pensiero che si afferma ad Atene nella seconda metà del V secolo e quindi in un contesto politico e culturale ben determinato e ben definito. Quando parliamo del movimento sofista, del movimento dei sofisti, non parliamo di una vera e propria scuola ma di un gruppo di intellettuali che tendevano a comportarsi tutti quanti allo stesso modo. Costoro erano insegnanti di retorica che vendevano la propria tecne, cioè la propria disciplina che era a metà tra un'arte e una tecnica, a pagamento. Loro dunque insegnavano a ben parlare per persuadere, per convincere, dietro un compenso. Erano poi accomunati, a differenza dei filosofi precedenti, dall'attenzione ad un nuovo tema. Cioè, mentre tutti i filosofi precedenti di cui c'è giunta notizia, soprattutto grazie, come sappiamo, al primo libro della Metafisica di Aristotele, avevano avuto al centro della propria attenzione il tema della fiusis, cioè della natura, della realtà nel suo complesso, ecco, questa nuova serie di intellettuali pone al centro della propria attenzione il linguaggio e specificatamente il soggetto che utilizza il linguaggio, quindi l'uomo. Allora possiamo dire che il tema dominante diventa l'antropologia, cioè la logia, il discorso, sull'antropos, cioè sull'uomo. Questa serie di intellettuali dunque non si occupa più della fiusis, cioè della natura, o del cosmo, cioè dell'universo ordinato, ma si occupa invece dell'antropos, cioè dell'uomo, e soprattutto del suo modo di convivere con gli altri attraverso il linguaggio e attraverso la politica e di conseguenza anche attraverso la morale. Perché proprio ad Atene e nella seconda metà del V secolo? Perché l'Atene della seconda metà del V secolo è la patria della democrazia degli antichi, che ha dei tratti ovviamente di somiglianza con la democrazia dei moderni, ma ha delle peculiarità. Siamo in un contesto in cui un decimo della popolazione, cioè i maschi adulti non schiavi, figli di madre e padre Atenese, prendono parte alla vita pubblica, cioè partecipano alle decisioni della città, all'assemblea, ma anche al consiglio, cioè all'ecclesia e alla boulet. Perché possano emergere, perché possano far sentire la propria opinione, devono essere in grado di saper ben parlare. E quindi uno degli elementi più importanti nella vita di Atene per le famiglie è pagare degli insegnanti che siano in grado di far diventare i propri figli capaci di emergere in assemblea. Ecco perché diventa fondamentale nella cultura atenese avere dei maestri di retorica che insegnino l'arte oratoria, cioè l'arte di saper ben parlare per poter convincere l'interlocutore. Sofista, sofistes, al plurale sofistai, tecnicamente sarebbe un aggettivo che significa saggio sapiente e quindi avrebbe un'accezione positiva. Dal momento che però sia Platone prima, sia Aristotele poi, ne ebbero invece un'accezione negativa, al termine sofisti la storia della filosofia antica viene ad assegnare un significato negativo, quasi come se Costoro fossero dei mistificatori della realtà. Cerchiamo di capire perché. Costoro non ritenevano che esistesse una verità unica, sola e assoluta. Ritenevano invece che potessero esistere più verità diverse, anche perché se si può convincere un altro, se si può persuadere un altro, necessariamente non deve poter esistere una sola verità, perché altrimenti io anziché convincere qualcuno gliela mostro, la verità gliela disvelo. Essendo Platone prima e Aristotele poi invece convinti che esistesse una e una sola verità, ecco al loro modo di vedere Costoro erano fondamentalmente dei mistificatori, dei bugiardi, dei charlatani, ecco se vogliamo usare dei termini più comprensibili, però noi diremo dei mistificatori. E quindi ecco che l'aggettivo sofistesse, che pure aveva una connotazione positiva, viene ad acquisire un significato negativo per connotare queste persone. Allora, Costoro erano insegnanti di retorica e alcuni anche di dialettica, cerchiamo di capire che differenza c'è fra le due capacità. La capacità retorica potremmo dire è quella di tenere dei lunghi discorsi, delle lunghe orazioni che fossero in grado di persuadere, di convincere, di affascinare un pubblico da una tribuna, quindi c'è chi parla da una tribuna e sotto c'è una platea che ascolta. Nella dialettica invece c'è un dialogo in cui c'è un parlare e un rispondere continuo fra due interlocutori. Loro erano insegnanti di retorica e quindi di oratoria, fondamentalmente insegnavano dei lunghi discorsi, però, insomma, per esempio, Protagora è anche un insegnante di dialettica, quindi anche di brevi discorsi. Protagora è il primo in ordine cronologico dei sofisti. Purtroppo le notizie che abbiamo sono molto poche e quindi anche per Protagora, così come siamo stati abituati a fare per i filosofi precedenti, ci serviamo di alcune notizie biografiche grazie a quanto ci ha lasciato soprattutto Diogene Laerzio e abbiamo molti frammenti e molte citazioni. Frammenti e citazioni sono state raccolte così come anche per gli altri presocratici da Dils e Kranz e poi sono state tradute in italiano da Giannantoni e c'è sempre la solita divisione tipica, insomma, dei frammenti di Dils e Kranz, frammenti che vengono riportati nel solito ordine, vita, diciamo, frammenti che riguardano notizie sulla vita e la biografia e poi frammenti che riguardano il pensiero. Mentre per gli altri presocratici di cui abbiamo parlato finora la fonte fondamentale abbiamo visto era fondamentalmente il primo libro della metafisica di Aristotele, ecco, possiamo dire che invece per Protagora una fonte inestimabile, benché avversa, è Platone. una serie di dialoghi di Platone cita Protagora, che ne so, almeno nel cratilo, ma la fonte fondamentale è proprio il dialogo omonimo, cioè il dialogo di Platone che si intitola Protagora. È chiaro che è una fonte avversa perché Platone non condivideva le idee di Protagora, però comunque pur per confutarle Platone ce le riporta le idee di Protagora. Allora, il frammento più famoso di Protagora che ci è pervenuto è questo qui. L'uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono. è un frammento come vediamo che doveva venire citato nell'opera che, guarda caso, si chiama La Verità e in effetti è un frammento che ha molto a che fare con la filosofia di Parmenide. Parmenide, se ci ricordiamo, aveva detto che esiste una non è una sola verità e era quella per la quale l'essere è e non può non essere e il non essere non è e non può essere. Qui Protagora invece sostiene qualcosa di assolutamente diverso, cioè la verità non è qualcosa che ha a che fare con l'essere e che non riguarda l'uomo, è l'uomo che è al centro del problema della verità, perché è l'uomo che è la misura, che è il metro della realtà, è l'uomo che decide che cosa è reale e che cosa non è reale, perché è l'uomo e è rispetto all'uomo che si decide che cosa è e che cosa non è. Ora, il primo elemento è che qui dunque si mette a tema definitivamente il problema antropologico, cioè a noi non interessa la realtà, interessa l'uomo, capire che cos'è l'uomo e quest'uomo è il detentore della possibilità della verità. Però dobbiamo capire che cosa intenda dire Protagora quando dice l'uomo. Che cosa vuole dire qui Protagora? Siamo di fronte al singolo individuo, cioè ogni singolo uomo è in misura delle cose? Forse sì, perché effettivamente pensiamo alle sensazioni, le sensazioni sono individuali, quindi una cosa che a me per esempio può sembrare dolce a un'altra persona può sembrare amara, un ambiente che a me può sembrare freddo a un'altra persona può sembrare caldo e allora qui probabilmente per l'uomo Protagora può intendere fondamentalmente l'individuo. Ma Protagora era un uomo originario per le poche notizie biografiche che abbiamo, almeno questa la sappiamo, era originario di Abdera, aveva viaggiato molto, anzi sembra addirittura che fosse stato anche ospite, un ospite illustre dell'impero persiano, era stato accolto fra i magi, in tardaità era venuto ad Atene, ad Atene si era stabilito e lì appunto era diventato un insegnante ben remunerato di retorica. Tra l'altro era entrato anche egli, come abbiamo visto per Anastagora, in ottimi rapporti con Pericle, quindi un uomo che aveva viaggiato molto, che conosceva gli usi e i costumi di tante realtà politiche diverse, di diverse città-stato greche, ma anche di tante comunità politiche barbare. Barbaro è parola onomatopeica in greco, è barbaro chiunque non parli la lingua greca, quindi straniere diremo noi. In greco ci sono due parole diverse per dire straniero, è straniero xenos chi parla un altro dialetto greco e xenos vuol dire sia straniero sia ospite, perché chiunque, pur essendo di un'altra città, quindi è straniero nel senso che è forestiero diremmo noi, comunque se viene in visita lo devo ospitare, i vincoli di ospitalità nel mondo greco sono sacri. Chi invece è di un'altra città città o paese e parla una lingua non greca è barbaro, quindi ci sono due modi diversi per dire straniero nel mondo greco. Lui aveva visitato anche posti barbari, quindi stranieri con altri usi, costumi, lingue, eccetera. E quindi può darsi anche che con uomo, qui voglia dire, membro di comunità politica, diversa, cittadino parlante lingue diverse, cioè in ogni città ci sono degli usi e dei costumi diversi, quindi uomo in quanto membro di una comunità politica. Oppure potrebbe qui usare il termine uomo in un'accezione che potremmo definire cosmopolita, cioè dire l'uomo in generale, cioè l'essere umano che sia esso barbaro, sia esso greco, comunque in generale è sempre un uomo ed è misura della realtà. Quindi può dire o uomo come singolo individuo, o uomo come cittadino delle diverse città-stato, delle diverse nazioni del mondo, o uomo in generale come essere umano. Quale che sia l'accezione con la quale gli intenda il termine uomo, comunque lo ritiene misura di tutte le cose. Quindi in questo senso possiamo sostenere che Protagora è il fondatore della corrente filosofica del relativismo perché l'uomo è il fondatore della realtà e quindi la realtà non esiste in generale ma è relativa all'uomo. Il suo dunque è un relativismo gnoseologico, cioè un relativismo che ha a che fare con la conoscenza. Gnoseologia è la conoscenza, ossia non esiste una verità assoluta, la verità dipende dall'uomo, dall'uomo come l'abbiamo definito, o dal singolo uomo, o dalla singola città, o dall'essere umano in generale. Ma di conseguenza siamo anche di fronte a un relativismo etico. Se non esiste una singola verità, non esisterà nemmeno un singolo bene che sia uguale per tutti, di conseguenza non ci sarà un criterio unico di giustizia. Ma allora come facciamo? Come si risolve questo problema? Come possiamo convivere? Ci allontaniamo tutti quanti gli uni dagli altri? Come possiamo conciliare il fatto che non esiste una verità assoluta con il fatto che comunque dobbiamo convivere e dovendo convivere abbiamo bisogno di una giustizia comune a cui appellarci. Ecco, Protagora ritiene che l'unico elemento a cui ci si possa appellare è il criterio dell'utilità. Cioè, Protagora si rende conto del fatto che le persone e questo lo ricostruiamo grazie all'omonimo dialogo di Platone le persone sono necessitate a vivere insieme. Non possono vivere separatamente. Perché? Perché a differenza di tutti gli altri esseri animati gli esseri umani non hanno le risorse necessarie per difendersi o dagli agenti atmosferici o dalle belve. Cioè, dice, mentre tutti gli altri animali diciamo così o hanno le corna o hanno gli zoccoli quindi o corrono velocemente oppure hanno degli strumenti di offesa con cui si difendono gli artigli appunto le corna e le zanne l'essere umano non ha nulla. Non avendo niente di tutto ciò l'essere umano costruisce le città però nel momento in cui costruisce le città sì, si può difendere pure diciamo così dalle belve però pur difendendosi dalle belve rischia di uccidersi rischiano gli uomini di uccidersi gli uni con gli altri perché gli uomini hanno bisogno di avere un criterio di giustizia a cui appellarsi altrimenti si attaccano l'uno con l'altro e come si fa allora secondo Protagora la giustizia è insita il senso di giustizia la capacità di pensare la giustizia è insito in ogni essere umano è la capacità di perseguire l'utile quindi non è che esiste una giustizia che è valida sempre uguale in ogni tempo ma ognuno siccome ha la capacità di avere il senso del rispetto il senso della vergogna e ha questo senso della giustizia saprà ben deliberare in una democrazia per individuare qual è l'utile maggiore per il maggior numero di persone dopodiché per Protagora questo utile che si ricava appunto in termini democratici con lo strumento della democrazia si si costruisce con un discorso all'interno della città si costruisce la politica si costruisce con la politica che richiede dunque un corretto uso del linguaggio allora un corretto uso del linguaggio richiede un corretto uso delle parole corretto uso delle parole e corretto uso degli argomenti ecco perché lui era un insegnante di retorica il corretto uso delle parole è sempre volto a perseguire il fine della persuasione e dell'utilità cioè la parola non serve mai a scoprire la verità perché la verità di per sé non esiste il linguaggio il discorso servono ad individuare il più grande utile per il maggior numero di persone cioè un discorso fondamentalmente democratico quello che fa Protagora poi l'altro motivo per cui viene ricordato Protagora è la professione di agnosticismo ecco l'agnosticismo non va confuso con l'ateismo l'agnosticismo è quella posizione rispetto alla religione secondo la quale io non sostengo che Dio non esiste quello è l'ateismo io sostengo invece che le questioni che riguardano la divinità sono così grandi e così complesse che io non posso prendere una posizione cioè io non posso né dire che gli dèi esistano né che gli dèi non esistano l'agnosticismo è questo è la sospensione del giudizio rispetto all'esistenza degli dèi cioè io non posso dire se gli dèi esistano o non esistano è una questione talmente tanto grande talmente tanto oscura che io non posso prendere una posizione né per il sì né per il no io non posso dire nemmeno che non esistano gli dèi però non posso nemmeno affermare che esistano non prendo una posizione sospendo il giudizio ecco noi abbiamo un frammento di protagora in cui egli appunto afferma di non poter dire con certezza né che gli dèi esistano né che gli dèi non esistano è chiaro che questa era una posizione inammissibile nel mondo greco e quindi probabilmente è per questo motivo a noi ci costa sapere che ad un certo punto cioè mentre per un lungo periodo egli fu diciamo così un insegnante di retorica molto ben affermato ad Atene ci risulta che a un certo punto non è più presente ad Atene e pare che fossero anche scomparse le sue opere non circolavano più le sue opere ad Atene e sembra che sia morto in un naufragio allora molto probabilmente deve essere stato processato e allontanato dalla città e tutte le sue opere sono state evidentemente bruciate o comunque fatte scomparire e non è non è escluso che una dannazio memorie cioè dannazio memorie quando una persona non solo viene allontanata ma si cerca di allontanarla proprio dalla memoria collettiva di un posto ecco una dannazio memorie del genere potrebbe essere giunta proprio perché una posizione agnostica era inaccettabile nella società nella società atenese però ecco ricordiamo con Protagora siamo di fronte al relativismo cioè lui non sostiene diciamolo chiaramente che nulla esista cioè la sua non è una posizione nichilista lui sostiene che l'unico punto di vista valido per poter interpretare la realtà è il punto di vista dell'uomo il suo diciamo così è un relativismo è un è la prima posizione nella storia della filosofia di un soggettivismo quindi l'unico punto di vista interessante è il punto di vista dell'uomo ecco l'ultimo aspetto interessante che vorrei ricordare è che nel dialogo di Platone il Protagora per chiarire bene la posizione di Protagora rispetto alla condizione dell'uomo di fronte alla giustizia Protagora racconta un mito che è il mito di Prometeo ed Epimeteo è un mito interessante perché ci permette di comprendere come i democratici giustificassero la loro posizione antropologica cioè perché secondo i democratici ognuno dovesse essere in grado di deliberare per la città ecco già ai tempi di Protagora esisteva una consapevolezza della differenza netta della dicotomia quindi possiamo dire quindi del taglio netto fra le competenze in alcune tecnai quindi in alcune arti e la competenza politica che invece dovevano avere tutti i cittadini mi spiego meglio protagora racconta questo mito c'era un tempo in cui non esistevano ancora le stirpi mortali e e allora la divinità pensò bene gli dei pensarono bene invece di creare gli esseri animati e quindi impastarono il fango l'argilla e crearono le varie stirpi dopodiché chiamarono i due titani i due fratelli prometeo ed epimeteo e dissero loro di rafforzarle un po' queste stirpi perché potessero rimanere al mondo il più possibile prometeo e epimeteo sono due due nomi parlanti prometeo vuol dire colui che sa prevedere epimeteo è colui che guarda il ritardo quindi colui che è tardo nel guardare colui che è lento colui che agisce in ritardo e epimeteo disse che voleva fare lui la spartizione quindi aveva a disposizione tutti questi presidi da dare a questi a questi esseri animati appunto insomma alcuni esseri animati diede a chi diede la velocità a chi diede le corna a chi diede le zanne a chi diede le pellicce insomma rafforzò tutti quanti gli animali per fare in modo che insomma gli uni potessero essere più veloci gli altri potessero essere più voraci e così insomma bene o male fece in modo che gli erbivo si riproducessero più frequentemente in maniera tale che così quando i carnivori se li mangiavano quelli poi rinascevano più velocemente insomma aveva studiato quasi tutto quanto bene se non che quando si arrivò al momento dell'uomo epimeteo si accorse che era rimasto senza senza risorse diceva adesso che gli diamo le zanne sono finite la pelle spessa è finita gli artigli sono finiti insomma non era rimasto niente quindi proprio in quel momento arrivò epimeteo arrivò prometeo da epimeteo e si accorse che purtroppo questa spartizione era stata fatta male e allora pensò bene di andare da presso insomma la dimora degli dei e di rubare qualche presidio che era appannaggio soltanto della divinità e pensò di rubare il fuoco però giustamente prometeo pensò dice ma se io gli rubo soltanto il fuoco questi che ci fanno solo col fuoco dice bisogna che gli rubo anche la tecnica con cui possono forgiare degli utensili perché soltanto col calore se non c'hanno pure un po' di tecnica con cui forgiano degli utensili non ci fanno nulla e quindi va da Efesto e da Atena e ruba il fuoco e la tecnica l'arte la parola greca corrispondente sarebbe tecne che non è proprio semplice da tradurre perché appunto è diciamo così potremmo dire l'arte dell'artigiano per capirci che è a metà fra una tecnica e un'arte cioè un po' di estro ma anche tante competenze tecniche vabbè ruba queste cose e le dà gli uomini e quindi questi con questa competenza diciamo così si difendevano un po' dalle bestie cominciano anche a costruire qualche qualche piccola città anzi cominciano pure a costruire dei templi perché comunque essendo quelli dice Protagora che erano più simili agli dèi perché ovviamente se l'immagina già antropomorfi cioè con la morfè la forma di antropos o di uomo gli dèi dicendo quelli più simili agli dèi cominciano a costruire pure dei templi facevano i sacrifici insomma alla fine gli dèi erano pure ben disposti verso questi uomini però che succede che si si difendevano da queste bestie si proprio cacciavano qualcosa però poi succedevano fra loro perché comunque non riuscivano a convivere gli mancava qualcos'altro che gli mancava gli mancava la politica cioè mancava loro la capacità di convivere la capacità di mediare la capacità di rispettarsi l'un l'altro gli mancava la giustizia allora Zeus dice no ma questi sono i più devoti di tutti come faccio a farne a me non si può fare allora manda un'altra volta manda Hermes stavolta e gli dice guarda porta subito agli uomini gli porti porti loro la giustizia e la idos eppure idos è parola un po' difficile da tradurre diciamo che vuol dire sia vergogna sia rispetto tutti traducono rispetto e è vero in realtà vuol dire anche rispetto però a differenza della parola rispetto in italiano c'è pure un senso di vergogna cioè non è il mero rispetto dell'altro cioè c'è pure un senso di contrazione personale quando tu non lo porti il rispetto quindi il rispetto italiano non c'è nella parola rispetto italiano non c'è quindi idos è rispetto e vergogna se vogliamo tradurre bene vabbè e gli chiede il messaggero degli idee dice ma che faccio faccio come le altre tecnai tecnai è plurale di tecne faccio come le altre tecnai che ne basta basta che la do a uno solo come faccio per i medici che basta un medico solo per tutti e cura tutti quindi do questa capacità di fare giustizia a uno e basta per tutti no no risponde Zeus questa la devi dare a tutti perché alcune competenze all'interno di una città si possono anche dare ad uno solo e ne basta uno per tutti cioè in una città piccola in una comunità piccola basta un medico basta un insegnante basta un calzolaio basta un idraulico le competenze possono anche essere poche e sono però a vantaggio di tutti il senso di giustizia e il senso di rispetto vergogna invece devono essere sentiti da tutti sono qualcosa che è universalmente ben distribuito perché ognuno perché ognuno di noi deve avere in sé il senso della giustizia quindi la capacità di percepire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato in un contesto e il senso del rispetto e della vergogna quando non si aderisce a un sistema di leggi in maniera tale che così si possa convivere senza questo non c'è comunità e così venne fondata la città che è il presidio per permettere alle persone di rimanere vive visto che non hanno altre risorse naturali questa è l'idea di democrazia di protagora cioè la giustizia è possibile all'interno di una città ed è insegnabile una volta che si raggiunge il criterio dell'utilità per quella città perché tutti quanti hanno la capacità per se stessi di adeguarsi a un'idea di giusto o di sbagliato e di vergognarsi quando non ci si adeguano mentre non tutti per dire possono diventare medici non tutti possono diventare idraulici non tutti possono diventare avvocati l'avvocato magari in Grecia non c'era cioè non tutti possono avere le altre competenze tutti però sono competenti rispetto al giusto allo sbagliato perché è un qualcosa che è proprio dell'uomo saper ben deliberare come cittadini rispetto al giusto o allo sbagliato perché è qualcosa di innato ecco questa era l'idea di di Protagora è qualcosa di innato questo comprendere che cosa possa essere più vantaggioso per sé all'interno della città ok